Siamo con il dottor Francesco Turco, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Abbiamo realizzato una serie di interviste su temi, su ambiti di competenza regionale. Ora è il momento finale, diciamo così, il momento dell'appello al voto. Dottor Turco, immagini di avere dinanzi a sé ogni suo potenziale elettore, cosa si sente di dire per conquistare la sua fiducia e per far sì che accanto al simbolo Lega barrato l'elettore scriva Turco? Uno si propone con argomenti, poi le persone e chi vota decide di votarlo per quello che è l'espressione del candidato. Perché? Perché io in questo momento ho fatto questa scelta e spero che abbia un numero sufficiente di elettori per essere eletto. Lo chiedo perché sono convinto e sono sicuro del fatto che io possa impegnarmi completamente, completamente nel grambito della sanità, cosa che conosco molto bene, ci lavoro da 30 anni e conosco le problematiche e possibilmente anche dare delle soluzioni per la sanità. Poi ho anche un'esperienza amministrativa abbastanza corposa. Io ho fatto il vice sindaco a Torricella, l'assessore, il consigliere comunale, per cui capisco come funziona la macchina amministrativa. Indubbiamente la macchina amministrativa regionale è una qualcosa di più grande, però non sono neofita di questa situazione. Perché votare Francesco Turco e perché la Lega? Perché la Lega è un partito nazionale, ripeto nazionale, che prende delle decisioni. Le decisioni sono sempre frutto di una mediazione, ma bisogna decidere alla fine. E perché vorremmo che si portasse anche qui da noi un modello organizzativo, che è quello fatto nelle regioni del nord, perché indubbiamente hanno delle qualità che hanno sviluppato col tempo, noi dobbiamo fare di necessità virtù. Per cui vi chiedo di votarmi per la fiducia, per la conoscenza personale, per il mio programma, per quello che penso e quello che ho detto alla gente, votatemi e sicuramente darò tutto il mio impegno completamente.